Ciao a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con Sunshine Money, il canale dedicato al mondo dei guadagni online. Oggi ragazzi vi faccio vedere tre app che ci danno la possibilità di guadagnare in modo assolutamente gratuito tre tipologie diverse di cripto. Chi mi segue sa benissimo che sono un amante, un appassionato di cripto, quindi oggi vi faccio vedere queste tre app, quindi guardate il video fino alla fine. Allora, queste app ricordo che sono per Android, quindi come dico spesso, chi non ha una situazione Android oppure chi non vuole installare delle app sul proprio smartphone, esistono tranquillamente in rete, potete cercarli, sono completamente gratuiti, degli emulatori Android che funzionano benissimo sia per il mondo Windows che per quello Apple. Quindi in questo modo potrete avere queste app comodamente sul vostro PC. Io, ad esempio, uso tranquillamente questi emulatori sul mio PC Windows. Allora, di queste app, ve ne avevo già parlato un po' di tempo fa, vado a riproporle e vado anche quindi a prelevare e vi faccio vedere che sono tranquillamente serie e paganti. Allora, vado a prendere le prime due app dal mio telefono, ok, quindi vado sulla schermata del mio telefono e vado a prendere queste app. La prima è questa qui e ci dà la possibilità di guadagnare Ripple. Ripple è una criptovaluta, tra l'altro anche tra le più importanti. L'app è completamente gratuita, dovrete scaricarla, installarla, dovrete registrarvi con la vostra email di Coinbase, poi inserire il mio codice bonus che vi lascerò in descrizione e andare avanti. In questo modo, appunto, semplicemente con un click, ragazzi, con un click, cliccando qui sulla voce Let's Play, andrete ad accumulare, a guadagnare questi Ripple, questi centesimi di Ripple. Tutti i centesimi di Ripple, questi token di Ripple, andranno ad accumularsi qui. Come potete vedere, in questo momento ho oltre 735.000 token di Ripple che posso andare a prelevare. Qui non abbiamo, non mi risulta che c'è un prelievo minimo, ok? E quindi, secondo me, possiamo andare a prelevare in qualsiasi momento. Io, per andare a guadagnare di più, per massimizzare i vostri guadagni, vi consiglio di, come dire, prelevare una volta che avete raggiunto una, come dire, cifra considerevole di token e questa app, tra l'altro, mi risulta essere pagante in modo istantaneo. Qui, in alto, avete, come potete vedere, questa energia, questa barretta che, man mano che andremo a fare gli spin, andrà a consumarsi. La barretta, poi, si caricherà in modo automatico durante le 24 ore. Quindi, io vado a prelevare, ok? Quindi, vado sul mio telefono e vado a prelevare. Ecco qui, vado nel menu a tendina, poi, clicco sulla voce Withdraw, ok? Vado a confermare il mio ritiro, il mio Withdraw tramite questo pulsante Take It Up Now, ok? Perfetto, e in modo istantaneo, i Ripple dovrebbero arrivare nel mio conto Coinbase. Aspettiamo un attimo che l'app processi l'operazione. Ecco qui, c'è questa pubblicità, vado a chiudere. Perfetto, e, come potete vedere, l'app mi dice che i miei Ripple sono nel mio account, ok? L'altra, dopo andremo anche a vedere su Coinbase, appunto, se ci sono arrivati. L'altra app è praticamente identica, ok? Però, anziché guadagnare Ripple, ci dà la possibilità di guadagnare, ragazzi, Lightcoin. È praticamente identica, funziona allo stesso modo, sono gli stessi creatori. Quindi, una volta scaricata, installata, ci scriveremo con la nostra e-mail di Coinbase, andremo, cortesemente, se volete, è una sorta di cortesia che mi andate a fare, ok? Andremo a inserire il codice bonus, il codice ref, che vi lascerò in descrizione relativo, appunto, a quest'app, che è questo. E poi, anche qui, possiamo andare a guadagnare gratuitamente questi Lighthosh, ok? I Lighthosh sono i centesimi di Lightcoin. Una volta che abbiamo accumulato i nostri Lighthosh, che andranno tutti qui al centro, come potete vedere in questo momento, ho 18.763 Lighthosh, possiamo andare a ritirare. Tutto arriverà sul nostro conto Coinbase. Anche qui, non mi risulta esserci un prolievo minimo, però, appunto, vi consiglio di arrivare a una cifra considerevole di Lighthosh e poi andare a prelevare allo stesso modo. Anche qui abbiamo la nostra energia che, man mano che andremo a, come dire, a fare gli spin, andrà a consumarsi e poi, nel corso della giornata, andrà a ricaricarsi in automatico. Ragazzi, è tutto completamente gratuito. Sono due belle e semplicissime possibilità di andare a guadagnare criptovalute. Lightcoin, in questo caso, e Ripple, nel caso precedente. Quindi, sono applicazioni assolutamente serie e paganti, pagano in modo istantaneo, poi vi farò anche vedere. Quindi, vado a ritirare anche questi Lightcoin. Stessa cosa, menu a tendina, in alto a sinistra, Withdraw. Ok. Take it out now. Perfetto. Come potete vedere, il mio balance si è alzerato e la mia richiesta è stata processata. Vado a chiudere la solita pubblicità. Queste app, ricordo che, come tante altre, hanno della pubblicità perché, appunto, ci guadagnano con questa pubblicità ed è in questo modo che riescono a pagarci. Chiudo la pubblicità e, come potete vedere, l'app mi dice che il mio pagamento è stato processato e quindi i miei Lightcoin sono nel mio account. Molto, molto semplice, ragazzi. È un modo semplicissimo per andare a guadagnare tutto sommato con un unico click. In questo caso, Lightcoin e con l'app precedente, Ripple, entrambe sono delle cripto importanti. Come potete vedere, mi è già arrivata la mail, ok, la mail di Coinbase che mi avverta, appunto, che queste cripto sono arrivate. Poi andiamo anche a vedere. La terza app che vi vado, come dire, a presentare, anche di questa, abbiamo già parlato un po' di tempo fa, quindi vado a riprenderla, è questa, ok? Qui andiamo a guadagnare Bitcoin Cash. Anche questa app, bellissima app, assolutamente seria e pagante, ripeto, questa invece ci dà la possibilità di guadagnare gratuitamente Bitcoin Cash. Anche qui dovremo installarla, andare a registrarci con la nostra email e poi andare a inserire il nostro wallet, il nostro portafoglio personale. Ad esempio, io mi sono iscritto, ho inserito il mio portafoglio di Coinbase relativo, mi raccomando, ai Bitcoin Cash. I Bitcoin Cash non sono da confondere con i Bitcoin, ok? Una volta fatto tutto questo, possiamo andare comodamente a guadagnare con questa app in modo semplicissimo. Ci sono due possibilità per guadagnare con questa app. La prima è questa, che come potete vedere c'è il conto alla rovescia perché ho già fatto. In questa sezione abbiamo una sorta di spin, ok? Che una volta andato a compiere ci darà dei satoshi di Bitcoin Cash. Tutti i satoshi di Bitcoin Cash accumulati andranno qui nel balance al centro. Come potete vedere in questo momento io ho quasi 22.000 satoshi. L'altra possibilità è questa in blu che vedete. Qui ci basterà andare dentro. Come potete vedere abbiamo questa sorta di ruota. Cliccherò su Get Rewards. Vi sarà proposta della pubblicità perché appunto, ripeto, queste app ci guadagnano tramite la pubblicità. Ed è in questo modo che riescono a pagarci. Una volta che la pubblicità si è conclusa, adesso vi faccio vedere, andremo a girare quella sorta di ruota che avete visto prima. Adesso aspettiamo che la pubblicità vada a concludersi. Ecco qui. Chiudo la pubblicità. Ecco qui la ruota. Vado a girare. Vado a premere su Claim Rewards. Come potete vedere in modo assolutamente casuale l'app mi dà dei satoshi di bitcoin e cash. Ne ho dati 50 in questo caso. Tutti i satoshi di, ripeto, bitcoin e cash, ragazzi, che non sono da confondere con i bitcoin, vanno qui in alto nel balance. Questa applicazione è assolutamente seria e pagante. E paga, ragazzi, paga ogni martedì in modo automatico. Quindi, ogni martedì a raggiungimento minimo di 20.000 satoshi, ogni martedì quest'app ci pagherà sul nostro wallet personale. Io ho scelto quello di Coinbase. Tutte e tre le app sono assolutamente serie e paganti. Io adesso vado sul mio Coinbase. Ok. Allora, innanzitutto vado nella mia mail. Vi faccio vedere che Coinbase mi ha inviato, appunto, la notifica di pagamento. Ok. Che mi dice che questo tizio mi ha inviato, mi ha appena inviato questa quantità di Litecoin. Non vedo quella dei Ripple. Vado ad aggiornare. Magari i Ripple ci metteranno un attimino di più. Ragazzi, vi assicuro che tutte queste app sono assolutamente serie e pagante. Vediamo un attimino. Niente. Magari i Ripple ci metteranno un attimino di più. Ok. Vado su Coinbase. Sul mio Coinbase. Entro nel mio account. Quindi, ragazzi, ecco qui i miei Litecoin. Arrivati in modo assolutamente istantaneo. Il 9 giugno mi sono stati mandati da questo signore Bobby Zuniga. Mentre per quanto riguarda gli XRP, ragazzi, ancora non ci sono. Magari ci metterà un attimino di più, però vi assicuro che l'app è assolutamente seria e pagante. Sono già andato a prelevare precedentemente con quest'app, come vedete il 24 maggio, e mi sono tranquillamente arrivati. Quindi, state tranquilli. Magari ci metterà un attimino di più, però l'app è assolutamente seria e pagante. Mentre per quanto riguarda i Bitcoin Cash, come vi dicevo, l'app a raggiungimento minimo dei 20.000 Satoshi ci paga in automatico ogni martedì. Come potete vedere, io ho già ricevuto 3 pagamenti dall'app dei Bitcoin Cash. Quindi, in chiusura, ragazzi, io vi ringrazio per la visualizzazione. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, aiutatemi a crescere, like ai video che vi piacciono. Se volete, potete interagire con me tramite i commenti in descrizione. Io, come avete visto, generalmente vi rispondo sempre. Ricordo che se volete sostenermi in modo assolutamente disinteressato, io ve ne sarò grato. Potrete farlo in futuro tramite il sistema di Brave. Brave, ho detto più volte, è un browser legato alla cripto, BAT, il sistema sarà assolutamente gratuito e in Italia non è ancora attivo, quindi ci aggiorneremo in seguito. Oppure tramite tutti i portafogli che trovate in descrizione. Ripeto, se lo farete, io ve ne sarò assolutamente grato. Sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti. Ciao al prossimo appuntamento.